Buongiorno a tutti da Gran Gala in Cucina ed ecco qui sotto il piatto cosa abbiamo abbiamo rigatoni agli olio peperoncino e zucchine veramente una cosa boom squisita con paprika dolce possono mangiarla senza peperoncino ai bambini ogni parato, ogni gusto da adulti a bambini a giovani e noi ci trovate su tante pagine praticamente ci trovate su youtube, instagram, facebook twitter, messenger messo da poco link lo metteremo e twitter poi troverete qua tra pochi giorni praticamente il nostro blog di cucina Gran Gala in Cucina VIP metteteci tanti like e aprite la campanella fateci conoscere in giro per il mondo e noi vi salutiamo e ci vediamo la prossima ricetta di stasera non dimenticatevi mai di mettere il like e ogni gusto, ogni palato è sempre affamato ciao a tutti a stasera con riprendi pure la prossima ricettina in Gran Gala in Cucina ciao ciao, buon pranzo ciao a tutti a stasera ciao a tutti a stasera